Il documentario ha sentito che non è vero che tutte le formiche lavorano sempre. Ci sta una parte che non fa niente tutta la giornata. E voi, spettom, se foste formica, a quale categoria vi piacerebbe appartenere? Quelle che non fanno niente o quelle che lavorano? Tra qualche giorno voi sarete tutti trasferiti. Tutte le attività sono sospese, non ci sono più colloqui. Il vitto fa schifo. È sciopero della fame. Qui senza lui ci siamo nella merda. Noi dobbiamo evitare una rivolta. Io sto cercando una soluzione per quello che posso fare io. È pericoloso. Ci vedo io con lui. Ti fai aiutare la peggiore dei detenuti. Ma sei impazzito? Basta adesso. Là giù, fai un passo indietro. Un passo indietro, detto! E tu stai in galleria, eh? Tu stai in galleria, no? Ma sì? Non me ne ero accorto. Io e te, in comune non abbiamo niente. No a sì? Grazie a tutti.